Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archie Parla e come in parte preannunciato da Treyarch abbiamo qui Craig Houston che fa una specie di mini riassunto per tutta quanta la storia etero-oscuro per la parte di intro, la parte ovviamente iniziale con The Machine, l'evoluzione con Firebuzz Z, l'operazione Freshhold per Epidemia, entrambi gli easter egg ma Werder Toten e quel poco che per adesso sappiamo per la mappa Forsaken e quello che appunto potrebbe succedere tutte le aspettative, tutto quello che può andare comunque storto o può andare bene per i nostri personaggi, per la storia e anche in parte alla fine ci sarà un piccolo accenno ai collegamenti a Vanguard. Già qualcuno di voi me l'aveva chiesto e comunque in futuro volevo farlo, una specie di riassunto per tutta quanta la storia di Cold War ma qua Craig Houston già ci dà una specie di infarinatura iniziale per quelli che sono appunto gli eventi principali e gli intel più interessanti. Ci sono ovviamente tante altre cose in mezzo molto secondarie o comunque non troppo importanti ma penso che quando farò un video magari tutto mio per tutte quante queste informazioni verrà sicuramente più lungo e dettagliato per certi personaggi che vanno comunque esplorati e approfonditi perché altrimenti un accenno soltanto iniziale, almeno per il momento, secondo me non è sufficiente per capire per bene tutto quanto e alcune evoluzioni che sono davvero importanti e secondo me saranno importanti anche in futuro. Quindi partendo un pochino con l'intro iniziale siamo a The Machine al progetto End Station fatto dai nazisti che hanno completamente perso il controllo di questo acceleratore di particelle volano in qualche modo entrare in un'altra dimensione ma invece che entrare loro e recuperare alcuni oggetti per essere più potenti e comunque vincere la guerra hanno fatto entrare praticamente un'armata di zombie e hanno zombificato tutto quanto il team tantissimi sono morti. A quel punto più avanti sono arrivati i sovietici che hanno scoperto questo sito hanno capito tutto quanto e hanno filmato tutto quello che stava succedendo e hanno mandato Zikov che come, diciamo, volontario ha deciso di entrare e chiudere questo acceleratore di particelle e appunto rimanere lì bloccato salvando però tutti quanti e chiudendo definitivamente questo posto. Ovviamente Omega di conseguenza noi con Requiem grazie alle informazioni che Samantha ha fornito a Weaver ci siamo recati nuovamente in questo posto, abbiamo risolto praticamente la situazione però appunto recuperando tutte quante queste informazioni per zombie, etero scuro, megaton e tante altre cose e chiaramente scontrandoci contro Omega che a questo punto è il nostro nemico principale capitanato da Kravchenko. Ci spostiamo quindi a Firebuzz Z dove si trova Ravenov, un disertore per il gruppo Omega che per quanto sovietico dice che Omega non rappresenta tutti quanti i loro piani e quella che è la loro visione del mondo, non qualcosa di così distruttivo e spietato per cui si mette in contatto con Samantha per mandare tutte quante le informazioni di questa zona in Vietnam per farla raggiungere appunto questo posto e poi comunicarlo a Requiem. A questo punto Samantha invece va praticamente per i fatti suoi e purtroppo viene catturata dal dottor Peck che decide a un certo punto dopo diverse interrogazioni che non portano praticamente a nulla di buttarla nel lettero scuro e lasciarla lì. A questo punto noi seguiamo le tracce di Samantha e raggiungiamo questo posto e praticamente facciamo quello che ci chiede Peck per cercare di recuperarla perché chiaramente quello è il nostro asset principale per quanto ci interessi anche Peck stesso e tutte le informazioni di questo avamposto 25 a far bazeta in Vietnam. Completando quindi tutta quanta la main quest e l'easter egg recuperiamo Samantha dal lettero scuro che è stata lì secondo noi soltanto per un paio di giorni ma per lei sono passati mesi e mesi e sicuramente ha avuto alcuni effetti collaterali. Ravenov decide di non venire con noi ma continuare a recuperare informazioni e praticamente restare infiltrato su Omega per aiutarci e contattarci perché appunto vuole in qualche modo bloccare questo gruppo e tutti quanti i loro piani. Vediamo anche l'arrivo di Alexandra Valentina, personaggio molto importante e Kravchenko che non è affatto contento di quello che Peck ha fatto a far bazeta e per punizione gli rimuoverà un occhio. Si passa ora invece a operazione Freshworld già in parte accennata a far bazeta per quanto riguarda il raggio rosso gigante che utilizziamo alla fine dell'easter egg e in questo caso nei Monti Urali ci sono tantissime operazioni capitanate da Carver, Strauss e Gray che sono i collaboratori di Weaver per quanto riguarda ricoprire alcune informazioni o alcuni oggetti per capire sempre di più del lettero scuro, utilizzare alcuni oggetti e creare anche noi alcuni prototipi o armi per controbattere appunto Omega che è già avanti di diversi mesi con questa specie di studio tecnologico noi siamo purtroppo rimasti indietro ma questo è un momento perfetto per ritornare tutti quanti in pari se non andare oltre. A questo punto su Epidemia Operazia Inversa sempre grazie alle informazioni di Ravenov che contatta Samantha dietro le spalle di Weaver cerchiamo di aiutarlo a distruggere queste testate a inversione create da Omega sembrerebbe per essere utilizzate contro l'Occidente e distruggere tutto quanto o quantomeno aprire anomalie di etero scuro gigantesche in tutta quanta l'America e ovviamente distruggere tutto il paese. Decidiamo quindi di buttare tutti quanti questi razzi in mezzo all'oceano per fare in modo che né Omega né Requiem possano utilizzarne il potere distruttivo. Eliminiamo anche Legion, il Tempest gigante e completiamo appunto questa operazione però purtroppo Weaver viene a sapere di tutto quanto perché noi veniamo appunto recuperati da Raptor 1 e viene appunto a scoprire che Samantha sta agendo completamente dietro le sue spalle e non è affatto contento. Passiamo poi a Operation Excision sempre grazie alle informazioni di Ravenov sembra che alcuni scienziati stiano disertando Omega quindi vogliono venire con noi per darci informazioni e comunque salvarsi dal fatto che comunque Omega e i suoi metodi non sono sicuramente il massimo. Seguiamo appunto tutte quante le informazioni di Ravenov ma purtroppo alla fine tutto quanto è una trappola. Questi scienziati sono morti e il Dottor Jaeger è semplicemente uno scienziato di Omega che ha fatto il doppio gioco e già intrappolati. Vengono quindi buttati giù da un razzo e Kravchenko ci cattura tutto quanto il team di Requiem e emanno lui e può decidere un pochino che cosa fare. A questo punto Weaver sicuramente non è affatto contento e si sfoga contro Ravenov dadò che tutte quante le sue informazioni erano sbagliate e sospetta addirittura che sia un doppio giochista, un traditore per quanto in realtà Ravenov sta cercando di aiutarci e semplicemente le sue informazioni erano sbagliate. Si passa poi a Berlino ma Werder Totten Kravchenko appunto ci ha catturato e ci costringe a lavorare per lui altrimenti ucciderà il nostro pirota Raptor 1 che è rimasto ferito ma fortunatamente è ancora vivo. In questo caso Alexandra Valentina si scopre essere anche lei praticamente una doppio giochista ma non per forza per Requiem contro Omega bensì lei è la figlia del Dr. Vogel che ha lavorato al progetto Endstation di Machine e secondo lei appunto il volere di suo padre era questa armata gigantesca di zombie nazisti per il momento che si trova nell'etero scuro lei dovrebbe in qualche modo prenderne il comando e distruggere tutto quanto il mondo per fare in modo che tutto quanto venga distrutto zombificato e ci sia praticamente un altro Reich. Per quanto siamo sotto il volere di Kravchenko è importante anche per noi sconfiggere Alexandra Valentina e impedire di distruggere tutto quanto e controllare il mondo. Completiamo quindi questa operazione e la sconfiggiamo ma Kravchenko per quanto sia contento del nostro lavoro non vuole lasciarci in vita quindi ci lascia Raptor 1 ma cerca di ucciderci. Fortunatamente Samantha con i poteri che ha praticamente ottenuto dal letero scuro è in grado di creare alcuni portali con la propria volontà che ci permettono di scappare da Berlino e salvarci tutti quanti. A questo punto un personaggio molto importante di cui purtroppo non sappiamo l'identità è il direttore che vede appunto che questi poteri di Samantha ne è molto molto curioso e dato che stanno comunque aumentando è comunque sia incuriosito che è spaventato vuole capire per bene tutto quanto infatti in seguito farà spostare Samantha in un altro avamposto segreto sotto il suo controllo in cui farà diversi test non proprio ortodossi. Al momento l'unica cosa che sappiamo per la mappa Forsaken è che si trova in Ucraina nella stessa sezione della campagna Red Light Green Light in questa struttura veramente gigantesca utilizzata dai sovietici per alcuni test per far pratica su come invadere le cittadine americane infatti la zona interna si chiama Anytown. Al momento sembra che Omega sta costruendo questa specie di macchinario per contenere il Rinnegato sotto le indicazioni di Zikov che dopo aver chiuso tutto quanto il portale e l'anomalia al Project End Station è rimasto bloccato nell'etero scuro per più di 40 anni ma è ancora vivo e sembra non essere praticamente mai invecchiato. Dice tutti quanti i piani per questo macchinario a PEC che lo costruisce nel corso dei mesi ma contatta anche noi di Requiem dicendoci che se lo salveremo facendolo uscire dall'etero scuro ci aiuterà a sconfiggere Omega e comunque ovviamente fermare il Rinnegato che penso sia l'obiettivo di tutti quanti per quanto Omega invece voglia sfruttarne i poteri per ovviamente diventare più forti e sconfiggere noi di Requiem. Di recente alcuni Intel hanno confermato che il direttore ha autorizzato Samantha per Operation First Domino per cui probabilmente anche lei sarà sul campo o sarà un pezzo molto molto importante come lo è stato alla fine di Mawar del Toten. Queste sono tutte quante le informazioni e diciamo il riassunto della storia a grandi linee per quanto riguarda le mappe principali e gli strike principali qua su Cold War. Vi ricordo che questo è soltanto il capitolo diciamo di inizio di apertura per tutta quanta questa storia etero-oscuro che verrà approfondita e ampliata anche su Vanguard che tornerà invece indietro sulla seconda guerra mondiale dove secondo me approfondiranno alcuni personaggi o alcuni avvenimenti forse qualcosa di Project Ten Station o collegato e dei gruppi Requiem e Omega. Qui ragazzi come accennato all'inizio video questo diciamo è il riassunto fatto da Craig Houston che è sicuramente molto molto bravo e a raccontare una voce veramente fantastica ma per quanto riguarda il riassunto definitivo avevamo accennato che vogliono fare diciamo una seconda parte per quanto riguarda la conclusione di questa storia grazie adesso anche a Forsaken ma penso che sarà giusto un pezzettino in più tutto quanto sarà collegato a Vanguard quindi è importante sapere per bene tutti quanti gli avvenimenti e secondo me anche i personaggi qualcuno come Zikov Strauss Vogel o altre cose del genere personaggi che sono molto vecchi o sono stati importanti anche a The Machine Project Ten Station secondo me saranno anche importanti su Vanguard o verranno quanto meno accennati. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile per quanto riguarda tutto quanto il riassunto della storia etero-oscuro fino ad adesso non vedo l'ora del lancio di Forsaken che comunque è molto molto vicino vi ricordo che domani c'è già il preload per quanto riguarda la season non so quanto peserà l'update ma ci sarà molta roba e qualcosa si potrà già vedere mentre tutti quanti i contenuti dovrebbero essere disponibili dalla mattina di giovedì 7. Grazie quindi a tutti quanti per la visione se volete il video originale ve lo lascio come sempre qui sotto in descrizione trovate anche tutti quanti i link nei miei social tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio a